Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro Il leader che non aveva titoli di Robin Sharma. Questo è il metodo per la leadership di Robin Sharma presentato sotto forma di racconto. Se lo applichi noterai dei risultati esplosivi nel lavoro e nella tua vita personale. Essere un leader non significa dirigere o essere il presidente di un'organizzazione o di un'azienda. Il grande messaggio di questo libro è che ognuno di noi ha dentro di sé tutto ciò che serve per essere un leader anche senza avere un titolo. Ognuno di noi ha dentro di sé un potenziale di gran lunga superiore al potere conferito da un titolo. Una volta che avrai imparato come risvegliare e poi applicare questi poteri, ogni elemento della tua vita scoppierà di successo. Cominciamo subito con il riassunto. Sharma ci spiega i principi del vero leader. Partiamo dal principio numero uno. Non giudicare un libro dalla sua copertina. Questo idioma è più potente di quanto si pensi e ci vogliono anni di pratica per diventare perfetti. Tutti noi abbiamo i nostri pregiudizi e sembra essere la natura umana o forse un difetto quando ci si trova in una nuova situazione o si incontrano nuove persone di tirare le somme in base al loro aspetto o all'abbigliamento. Ma spesso possiamo sbagliare molto, come la commessa svizzera che si è rifiutata di mostrare ad Oprah Winfrey, che ha un patrimonio di oltre 3 miliardi di dollari, secondo Forbes, una borsa perché la riteneva troppo costosa per Oprah. Allo stesso modo, quando Blake incontra Tommy per la prima volta, è confuso dal suo aspetto alla Albert Einstein, ma una volta che lo conosce scopre che Tommy ha molta più sostanza e profondità nel suo spirito di quanto avesse inizialmente previsto. Numero 2. La vita è una lezione continua. Tommy era amico del padre di Blake e aveva una visione della sua vita, motivo per cui adotta anche il ruolo di mentore per Blake. Tommy condivide una frase con Blake. Perdersi lungo il tuo cammino fa parte del ritrovamento del cammino su cui sei destinato a stare. A volte abbiamo bisogno di uscire dal percorso prima di poter sviluppare la chiarezza riguardo il percorso giusto. Spesso quando siamo nell'immediatezza di una situazione sviluppiamo una visione a tunnel e possiamo vedere solo ciò che è proprio di fronte a noi senza avere la chiarezza mentale per assorbire tutto nel contesto. Ma dopo aver riflettuto e valutato a fondo la situazione con una mente aperta, possiamo digerire e assimilare le lezioni dall'esperienza e imparare a crescere da essa. Ogni persona ed esperienza è destinata ad insegnarci qualcosa su noi stessi e ad arricchire la nostra vita se glielo permettiamo e se siamo aperti. Se riconosciamo questo e ci lavoriamo costantemente ci evolveremo e miglioreremo rispetto alla persona che eravamo ieri. Tommy dice a Blake che vorrebbe che lui raggiungesse standard di livello mondiale non solo nella sua carriera ma anche nella salute nelle relazioni e nei livelli di felicità. Numero 3 tratta tutti allo stesso modo. Un elemento forte del libro riguarda il trattare tutti allo stesso modo non importa quale sia la loro posizione o il loro status. Abbiamo una frase molto celebre che dice si può facilmente giudicare il carattere di un uomo da come tratta coloro che non possono fare nulla per lui. Questa è una frase di Forbes. Questo detto riafferma l'essenza di ciò che Robin Sharma trasmette nel libro. Mai Angelu diceva le persone dimenticheranno ciò che hai detto o fatto ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire. Dovremo trattare tutti con rispetto e umiltà indipendentemente da come percepiamo la loro influenza sulla nostra vita. Il titolo del libro il leader che non aveva titoli racchiude questa filosofia e Sharma sottolinea nel libro che il CEO viene sepolto accanto allo spazzino. In definitiva non importa che tipo di auto si guida, in quale casa si vive o quanti zeri appaiono sul vostro conto corrente, tutto si riduce a come si interagisce e si tratta il prossimo. Sei un leader proprio dove sei. Nutri i tuoi principi per garantire il successo. Il libro ci ricorda una serie di principi che dobbiamo applicare alla nostra vita e come attraverso la loro applicazione saremo dei leader veramente eccezionali, non importa dove e in quali posizioni ci troviamo. Chiunque può guidare e ognuno di noi ha il potere di mostrare la leadership. Non dobbiamo aspettare di raggiungere un certo livello per essere eccezionali. Tutto ciò che serve è il desiderio di essere coinvolti e l'impegno di fare una differenza positiva nel mondo. Sharma aggiunge il mio viaggio nella leadership è iniziato un po' di tempo fa e molte delle mie esperienze e apprendimenti sono state contestualizzate dai libri che ho letto, da John Maxwell a Stephen Covey. Non aspettare che qualcun altro faccia qualcosa perché non è nella descrizione del tuo lavoro o non fa parte di quello che pensi sia il tuo ruolo, ma piuttosto si tratta di fare le cose e di applicarsi a le situazioni per influenzare positivamente un risultato. L'unico modo in cui qualsiasi organizzazione, qualsiasi essere umano vincerà in questi tempi di cambiamenti rivoluzionari sarà iniziando ad operare sotto un nuovo modello rivoluzionario di leadership e questo modello consiste nel creare un ambiente, una cultura in cui tutti devono mostrare la propria leadership. Tutti devono guidare l'innovazione, tutti devono ispirare i loro compagni di squadra, tutti devono abbracciare il cambiamento, tutti devono assumersi le responsabilità dei risultati, tutti devono essere positivi e tutti devono dedicarsi ad esprimere il loro meglio. La più alta di tutte le abilità umane è la capacità che ognuno di noi ha di scegliere come rispondere all'ambiente in cui si trova e quando ognuno di noi sceglie la performance e la leadership personale naturalmente l'organizzazione stessa arriva rapidamente ai livelli mondiali e una volta che lo fa l'organizzazione non solo si adatta facilmente alle condizioni che cambiano ma sarà effettivamente leader nel suo campo. Numero 5 imparare a crescere continuamente. Il libro è pieno di suggerimenti e consigli su come migliorare la propria vita, ti ricorda cose che probabilmente già conosci e concetti che hai già incontrato prima ma penso che leggerlo rafforzi questi messaggi e aiuti a mantenerli impressi nella nostra mente anche in futuro. Sharma parla di gratitudine, di non dare le cose per scontate e ci incoraggia a smettere di preoccuparci. Qualcosa di cui sono sicuro dice Sharma è che tutti siamo colpevoli. Sottolinea anche l'importanza della continua autoeducazione dell'apprendimento attraverso la lettura. Quindi il livello e la situazione in cui ci troviamo adesso dipende tutto da noi stessi, da come abbiamo gestito la nostra vita fino ad oggi e ovviamente anche i risultati futuri dipendono da quello che faremo oggi e ogni giorno per migliorare i nostri risultati, specialmente se non siamo soddisfatti di quello che abbiamo. Numero 6, il club delle 5 del mattino. Sharma ci introduce al concetto del club delle 5 del mattino e lui dice che per essere la miglior versione di te stesso devi lavorare continuamente su corpo, mente e spirito. Lui ha scoperto che alzarsi alle 5 del mattino quando il resto del mondo è ancora addormentato permette di prepararsi per la giornata che ci aspetta. Quindi inizia con 20 minuti di esercizio per far scorrere il sangue, esercizio fisico. Mantenere un corpo sano è fondamentale per la vostra vita perché i risultati non hanno importanza se non siete sani. Poi bisogna riflettere sui propri obiettivi e su ciò che si vuole raggiungere per i prossimi 20 minuti, quindi 40 minuti, esercizi e obiettivi e gli ultimi 20 minuti di quell'ora si devono dedicare a migliorare la propria mente leggendo e imparando qualcosa di nuovo. Devi sfidare te stesso ad essere migliore della persona che eri ieri. Numero 7. Piccoli passi nel tempo generano grandi risultati. Secondo Sharma i piccoli passi nel tempo portano a grandi risultati e il fallimento invece deriva da alcuni atti quotidiani di negligenza che nel tempo portano al disastro. Quindi se vogliamo sperimentare l'appagamento che ci porta al raggiungimento dei nostri obiettivi dobbiamo visualizzarli e lavorare per raggiungerli ogni singolo giorno. Sharma dice che una nuova ricerca sostiene che ci vogliano 66 giorni per instaurare una nuova abitudine. Quindi se avete bisogno di farlo dovete impegnarvi e lavorarci ogni giorno per 66 giorni. Questo vale per qualsiasi nuova abitudine. 66. E ultimo principio impegnarsi per la padronanza. Padroneggia il tuo mestiere qualunque cosa tu faccia. Robin incoraggia i lettori a padroneggiare il loro mestiere. Devi imparare continuamente sull'argomento che ti appassiona. Tutto si evolve e dobbiamo stare al passo con i cambiamenti nei nostri campi per assicurarci di rimanere rilevanti e informati. Vi incoraggio a leggere il leader che non aveva titoli per saperne di più sulle altre idee utili e rivoluzionarie che Sharma condivide. Potete beneficiare anche della motivazione e dell'ispirazione quotidiana di Robin Sharma seguendolo anche su YouTube. Questo era il riassunto che vi volevo presentare. Questo era il libro Il Monaco che non aveva titoli di Robin Sharma. Un libro che insegna come diventare un vincente in questi tempi di grande incertezza. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!